Il nostro cantiere ha appena riaperto i cancelli dopo quasi due anni di vertenza, dopo sette mesi di mobilitazioni continue settimanali e dopo quasi cento giorni di occupazione. Questo perché abbiamo detto di no al ricatto occupazionale a cui Fincantieri ci voleva sottoporre, lavorare un po' di lavoro in cambio della svendita della dignità e quindi personale diretto che restava in cassa integrazione a zero ore sostituito da quella giungla selvaggia delle ditte d'appalto completamente fuori controllo del mio stabilimento. Abbiamo rivendicato la giusta dignità, abbiamo rivendicato le giuste condizioni di lavoro e dopo una mobilitazione fortissima siamo riusciti a riaprire il cantiere alle nostre condizioni che sono le condizioni minime di lavoro che aspetterebbero a chiunque. L'11 febbraio saremo insieme alla FIOMA a Roma nella manifestazione da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni per rivendicare insieme a tutta la FIOMA e a tutti quelli che condividono la nostra mobilitazione per rivendicare le giuste condizioni di lavoro, il giusto futuro fatto solamente non di precarietà e di schiavitù ma fatto di lavoro libero e dignitoso e per questo chiediamo a tutti quelli che vogliono essere con noi di essere in Piazza San Giovanni l'11 febbraio per dire che un altro futuro è possibile, è possibile un'altra alternativa per uscire dalla crisi e per ricordare ancora tutti una volta che noi lavoratori non permetteremo mai che vengano contestati i valori della Repubblica e difenderemo sempre la dignità del lavoro. Mai domini!